Juggeride, Olanda, GP, Adri Van Der Poel, a casa di Van Der Poel che lo sapete non è stato presente per tutta la stagione, va in scena l'ultima prova della Coppa del Mondo di ciclocross, stagione 2021-2022, sedicesima prova dei Jure, quindicesima prova de facto di quella che è stata secondo me il più deludente dei tre criterium del ciclocross. Amici e amici appassionati di grande ciclocross, buon pomeriggio e benvenuti su un rinno speciale ragazzi, parliamo appunto di questa prova di ciclocross, ultima prova della Coppa del Mondo che ha visto davvero un ultimo giro spettacolare, si è conclusa col bot, lo sapete, già la generale era stata decisa in precedenza nelle gare precedenti con Iserbit che praticamente già da inizio stagione ha già vinto questa Coppa del Mondo di ciclocross. Una gara davvero molto molto intensa fin dall'inizio, con un'ottima partenza da parte dell'olandese volante Lars Van Der Haar che si porta dietro Quinty Nermans, oltre a Ryan Kamp però soprattutto sono i primi due che vanno a impostare il ritmo nella prima fase di gara, fino a quando non arriviamo all'inizio del quarto giro. Per i primi tre giri c'è stato un dominio da parte loro. Come al solito Pitcock parte discretamente male, partono male anche gli altri come anche Elie Iserbit ma poi piano piano i valori in campo si fanno vedere. Infatti all'inizio del quarto giro Pitcock raggiunge i due davanti, Van Der Haar e Hermans, a qualche secondo staccati il gruppo con i vari Van Turnout, con Tone Arts, con lo stesso Elie Iserbit, vado abbastanza di ore, con anche Cornet Van Kessel. Dopodiché succede il patatrack perché succede la caduta da parte di Lars Van Der Haar che coinvolge anche Hermans, i due erano diciamo sotto pressione a causa dell'attacco da parte di Tom Pitcock. Tom Pitcock che vi ricordo non ha più la maglia di campione nazionale di Inghilterra, di Gran Bretagna, scusate, che adesso è sulle spalle di Thomas Mayne. Per quanto riguarda le conseguenze di questa caduta è che rallenta praticamente Van Turnout e tutti quelli dietro ma soprattutto mette fuori gioco Hermans che ha un problema davvero irreparabile con la catena della bici. Inoltre c'è da dire che i box sono lantanissimi per il corridore della Domars Cirlocross che corre su strada per l'Inter Marché Wonti-Gobert e quindi gara terminata per il corridore belga. A questo punto sembra che la gara fosse finita, infatti avevo preparato i tag con Pitcock vincitore invece, perché Pitcock raggiunge una ventina di secondi di vantaggio ma sembra che il suo vantaggio possa sempre più progredire. Ma fra la fine del settimo giro e l'inizio dell'ottavo giro avviene letteralmente un crollo verticale da parte di Tom Pitcock che viene ripreso da Elie Iserbit e in seconda battuta da Van Der Haar e da Van Turnout. Ora vi chiederete ma che fine ha fatto Tonars? Tonars intorno al quarto giro ha un problema, infatti ha un incidente alle tavole perché salta male le tavole e ha un incidente che lo relegherà nelle posizioni di incalzo. Però farà un'autentica rimonta che lo porterà a circa 10 secondi ad un giro dalla fine. Infatti a un giro dalla fine, Iserbit, Van Der Haar, Pitcock e Van Turnout sono i primi quattro. Sono i primi quattro e stanno assieme per un paio di metri perché poi arriva subito lo scatto da parte proprio di Elie Iserbit. Elie Iserbit che inizierà a fare il vuoto prenderà quei 5 secondi che poi diventeranno 3 che gli risulteranno decisivi per portarsi a casa questa tappa di ciclocross. Seconda posizione per Van Der Haar dopo che Pitcock era riuscito a scappare per tentare appunto di andare a riprendere Iserbit, però Pitcock non riesce effettivamente a riprendere Iserbit, anzi si va a superare lo sprint dall'olandese volante, campione europeo. Quarta posizione invece per Michael Van Turnout della postosa in Mingol. Dopodiché la top 10 è conclusa da Tonars, Hendricks, Hermans, non pensavo che Hermans fosse arrivato settimo, pensavo si fosse ritirato, invece il ritirato è stato Van Kessel. Ottome Hussen, poi Van Der Bosch, poi decimo Loris Zweck, Zweck che viene, lo sapete, dalla vittoria di ieri al Flandering Cross di Hammeh. E dopodiché via via tutti gli altri. Dan Sud è Ryan Kamp, Versling, campione belga under 23, tredicesimo, quadrucesimo Kevin Kuhn, quindicesimo Cleman Vetturini. Ditemi un po' voi, secondo voi, chi vincerà il mondiale di Ciclo Cross, perché questa era l'ultima prova prima del mondiale di Fayetteville di domenica prossima. Ditemi un po' voi. Ha vinto la prova femminile Marianne Vos, non ho visto nulla della gara, quindi non posso dire assolutamente nulla. Per quanto mi riguarda, ci vediamo settimana prossima con un candidato, però forse ci potrebbe essere una sorpresa. Dite un po' voi se la volete qui sotto nei commenti, questa sorpresa vorrei fare, diciamo, un po' una sorta di presentazione dei favoriti a questo mondiale. Vediamo un po'. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Questo mondiale vi ricordo che è più aperto che mai. E vi ricordo che chiunque vincerà questo mondiale sarà per lui il primo e forse unico titolo iridato a livello di Ciclo Cross in carriera. Quindi appuntamento da non perdere domenica prossima col mondiale di Ciclo Cross anno 2022. Ciao belli!